un gambero di acqua dolce pescato lungo pescato da grifo 994 adesso da buon animalista lo non spingere potete vedere anche ladro di pannocchie abbiamo preso due pannocchie dietro eccolo ladro di pannocchie ci arresta guardate un po la guardate io grifo come abbiamo messo le bici guardate voi no fa 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 ve l'ho detto già tante volte